Un altro tassellino che aggiungiamo alla collezione di medaglie che questa orchestra nel tempo ha conquistato e continua a conquistare. È una soddisfazione grandissima perché ritengo che lo studio della musica sia qualcosa che arricchisce tutti, indipendentemente dall'età, e coltivarla a partire dalla giovane età come facciamo noi è un valore aggiunto. Con noi ragazzini siamo stati quest'anno a Laureana di Purrello in Calabria ed è stata una bella esperienza, i ragazzini sono anche divertiti, hanno avuto modo di confrontarsi con ben altre 11 orchestra e noi, 12 orchestra, abbiamo avuto il piacere di piazzarci al primo posto. Oggi a conclusione dell'anno scolastico, in occasione del concerto dell'orchestra Maccherione, l'amministrazione intende ringraziare l'orchestra Maccherione come un motivo di vanto e di lustro per la nostra città. Mai hai scelto il piano forte? Ho scelto il piano forte perché praticamente è stata la mia passione da quando ho avuto tre anni. Con l'infinita gratitudine per aver reso orgoglioso la nostra città, vincendo il prestigioso... Ho scelto il piano forte perché praticamente è stata la mia passione da quando ho avuto tre anni.